Il discorso è questo. Se c'è un'idea santa, un'idea risposta, però in fondo non c'è una grande relazione, noi possiamo portarla avanti? Perché ho parlato con la Monica Sapo, la quale mi faceva delle, come si può dire, delle valutazioni che io non posso portare. Io ho un'idea che si può fare il parcheggio di queste dati in un punto a tappo con poca, come si solture, comunicazione di integrazione e di poco costo. Però la mia è un'idea, io non sono un'impresa, io posso anche dare un'idea di come fare queste cassone. Ma la domanda non è una domanda, la domanda è noi possiamo come partito organizzarsi per risolvere noi questo problema? Se non possiamo allora siamo che facciamo i scavi che vogliamo fare, che riportano a Marghera, dopo con l'elicottero riportano in Piazza San Marco, se siamo che facciamo quello che vogliono, così no, dobbiamo noi organizzarsi per... La domanda è quindi se il partito può fare qualcosa con poco posto per risolvere questa questione? La fa, tra la domanda. Va bene, era l'ultimo intervento. Ripetiamo.